Arezzo 2, Poggi Bonzi 1, al nostro microfono Paolo Galletti, opinionista Arezzo 24. Paolo, diciamo che è stata una bella partita, l'Arezzo ha giocato a viso aperto, onore anche alla capolista che non è venuta qui a fare barricate, però una vittoria veramente preziosa. Una vittoria importante anche perché sicuramente nella giornata noi avevamo la partita peggiore, i risultati lo dimostrano, il Follonica dopo il primo tempo già vinceva 5-0 col Cannara, e noi avevamo invece un avversario molto ostico, però oggi abbiamo visto probabilmente il miglior Arezzo dall'inizio del campionato, nel primo tempo senza dubbio. Cutolo era in giornata ottima, ha guidato la squadra dando l'esempio, lottando e giocando con la qualità che sa. Abbiamo colpito due pali, una traversa, diverse opportunità, corso come al solito qualche rischio in difesa che si poteva evitare, ma questo ormai fa parte del DNA della squadra, direi che complessivamente oggi l'Arezzo ha giocato una gran bella partita, se avesse avuto questa intensità e questa continuità da inizio stagione forse saremmo a ragionare di altro. Purtroppo sappiamo tutti come sono andate le cose, i rimpianti dopo questa partita non diminuiscono, anzi aumentano, però ci siamo tolti la soddisfazione di vincere il primo scontro diretto. Allora, con il capitano Nello Cutolo una vittoria importante, intanto complimenti per la prestazione, hai trascinato la squadra nel primo tempo. Ti ringrazio, però oggi sapevamo che era una partita difficilissima perché loro dimostrano il campionato che stanno facendo. Devo dire che siamo stati veramente bravi perché non era facile poi andare in svantaggio e non perdere mai la lucidità, siamo stati veramente da squadra importante. Il primo tempo forse da categoria superiore dell'Arezzo oggi. Sì, sì, ecco, purtroppo siamo qui, se il giornale è dalla fine, però ecco, come ho già detto qualche settimana fa, noi da qui alla fine cerchiamo di non recriminarci più niente, quindi devono essere sempre così le prestazioni, perché noi abbiamo un altro obiettivo purtroppo da raggiungere e dobbiamo arrivarci bene. Queste vittorie ci fanno capire, anche ci danno ancora consapevolezza per arrivarci bene. Questo modo di giocare di oggi con un 4-3-3 praticamente vi ha aiutato anche lì davanti. Avete anche messo diverse volte per sano in condizione di segnare in una casa, ha fatto una doppietta. Sì, diciamo che era stata una cosa provata e riprovata in settimana, poi alla fine, lo sapete anche voi, a volte il mister è condizionato dalle scelte anche degli under, e quindi bene, bene, mi fa piacere, perché oggi avevamo una squadra forte di fronte, però penso che noi abbiamo fatto una grande partita e abbiamo cercato proprio di sfruttare con il reparto offensivo over, perché la maggior parte in questa categoria gli under si sfruttano sugli esterni e devo dire che l'abbiamo interpretato bene, ma non solo il reparto offensivo, perché faccio complimenti a tutti i miei compagni, perché è stata veramente un'ottima prestazione. Allora, con l'allenatore del Poggi Bonzi Calderini, una sconfitta maturata contro l'Arezzo che ha giocato forse il miglior primo tempo della stagione e il gol del 2-1 preso quando magari stavate cominciando a prendere il campo voi. È vero, sì, analisi giusta. A primo tempo l'Arezzo ha fatto un ottimo primo tempo, creando tante occasioni, però anche noi, ripeto, abbiamo avuto le nostre occasioni, due volte ci siamo presentati davanti al portiere da soli, poi abbiamo fatto qualche errore proprio lì e credo proprio che il secondo gol dell'Arezzo è venuto in un momento, forse che la squadra stava prendendo campo e stavamo facendo forse qualcosa di meglio rispetto a loro, che nella seconda parte hanno abbassato molto il livello del ritmo e hanno trovato un pochettino più di difficoltà. Comunque, ripeto un'altra volta, ci può stare di perdere ad Arezzo, faccio i complimenti al mister e alla squadra perché ho visto un Arezzo veramente importante oggi e ci sono dei giocatori, sinceramente, di altissimo livello. Allora, Mattia Persano, una bella partita della squadra, un gran bel primo tempo, due gol tuoi che ti hanno anche sbloccato qui in casa, ci voleva il pubblico per segnare? Sicuramente il pubblico è una cornice fondamentale nei 90 minuti, è stata una grande emozione vederli lì in curva perché comunque mancavano, non bisogna nasconderlo questo, quindi ci tenevo a far gol in casa, ci tenevo a giocare bene per la squadra e per fortuna è andato tutto bene, abbiamo vinto, quindi siamo contenti. Anche una bella applicazione e determinazione nel secondo tempo quando poi sono venute un po' meno la lucidità e la freschezza, però non avete mollato mai nessun pallone. No, questo deve essere lo spirito che ci accompagna dalla seconda parte di stagione fino adesso, non lo dobbiamo abbandonare perché è questa la nostra forza, in questa categoria serve soprattutto questo, e quindi, ripeto, siamo contenti perché nonostante qualche risultato che non ci ha portato i tre punti, ma abbiamo sempre lavorato tanto, abbiamo sempre approcciato bene le partite, nei 90 minuti abbiamo sempre dato tutto e secondo me a lungo andare poi tutto questo si vede, oggi secondo me è stata la prova lampante di comunque, quando sei in campo concentrato fai bene. Allora, mister Mariotti, il migliore Arezzo della stagione, una bella soddisfazione e un briciolo di rimpianto perché vedere l'Arezzo giocare così... No, come ho detto ai tuoi colleghi, mi tutto volevo fare un complimento ai tifosi, perché con il loro rientro, con il loro aiuto che sono stati per 96 minuti, è inutile, dire un'arma in più, ci hanno fatto superare il momento difficile di essere andati sotto, al secondo tempo abbiamo sofferto, ci ha aiutato costantemente, questo era quello che volevo di qualche settimana fa. Anche la squadra ha trascinato il pubblico, il primo tempo è stato spumeggiante, veramente non si vedeva da... Ma ultimamente qualche partita così, anche con Follonica avevamo fatto una partita 1-1 così, è molto bella. Questo è stato uno dei migliori primi tempi insieme al Monta Spaccano, insieme a Follonica. Dove ringraziare i ragazzi, i ragazzi si sono stato un gode tutta questa partita di oggi, perché sono andati sotto immediatamente, dopo aver colpito due pali, due traverse, anche loro hanno avuto le loro occasioni, va riconosciuto, ma poi hanno reagito, hanno giocato una grande partita e hanno immediatamente portato a casa la vittoria. Vuol dire che dei valori ci sono, io come avevo detto sempre, la prima squadra ha dei valori tecnici, questa ha dei valori morali molto importanti, perché anche domenica a San Donato, i primi 60-70 minuti sono stati veramente ben giocati. Poi gli episodi tante volte decidono le partite, pure oggi sembrava che fosse al nostro sfavore, invece poi la forza della squadra, come ripeto, con l'aiuto del pubblico, ha fatto sì che la partita fosse alla fine a nostra portata, meritatamente è stato un bel vedere. Molto bene anche l'attacco tutto over, una formula che penso che avrà la tentazione di ripetere. Assolutamente sì, stiamo sperimentando, sperimentiamo sempre perché poi è bello non dare niente per scontato, ma poi in fondo con il rombo, con il tre quartista e due punte, con il tre punte in linea cambia poco, è l'approccio alla partita, la voglia che hanno avuto oggi i ragazzi che hanno da quando sono tornato veramente dovevo fare un complimento. Un vecchietto come Cutolo che trascina i giovani. Un vecchietto come quando hai un giocatore così che poi la sente sua, a sta maglia, a sta squadra, ti dà tanto, ma poi un ringraziamento a tutti perché abbiamo avuto anche all'ultimo dell'assenza, i Marchi recuperati all'ultimo, i Blazzarini che si è rifatto male ieri, i Marras che oggi hanno fatto, secondo me, i giovani, una buona gara, perché noi giustamente gli attacchiamo, ma quando poi c'è a dargli un merito oggi hanno fatto una buona gara a tutti quanti. Bene, grazie mister. Grazie a voi.